Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo al file zip che non è stato così, quindi la cartella compressa oppure il file non è valido, quindi hai anche problemi ad estrarre questa cartella, è possibile risolvere tutto attraverso l'applicazione 7zip. In questo caso vai a scaricare così la tua versione, io per esempio ho 64 bit, se non dovesse funzionare 64 bit provai 32 bit, scarichi così questa versione qua, eccola qua, .exe, la installo e la chiudo. Una volta installato puoi prendere questa applicazione e buttarla, una volta fatto, tasso destro sopra, mostra troppazioni, e qui c'è scritto 7zip, estrai i file, estrai qui, oppure estrai in questa cartella qua, facciamo sì per tutto, ed eccola qua. Per altri problemi ancora puoi commentare su tal video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.